Prima sgambata dell'anno per i biancazzuri di mister Marco Pomante allo stadio Mariani Pavone. I pineteschi del presidente dottor Silvio Brocco hanno disputato un amichevole con il mutignano di mister Cavicchia. In una partita condizionata dal gran caldo e dai carichi della preparazione, i rivieraschi hanno iniziato a provare i primi movimenti in vista del prossimo campionato di Serie D. Per il tecnico pineteschi Pomante è stata un'ottima occasione per testare i neoacquisti e tanti ragazzi del settore giovanile biancazzurro. Per il mutignano, ottimo test in vista del prossimo campionato di promozione. Come è normale che sia in una fase iniziale di ritiro. Veniamo da due settimane da carichi molto pesanti. Oggi si è vista la pesantezza nelle gambe dei ragazzi. Però ho visto cose positive, è normale che c'è tanto da migliorare. Però penso che in questa fase sia giusto vedere anche i ragazzi in questo modo perché abbiamo lavorato tantissimo. Io sui giovani ci credo tanto. Gli do tanta fiducia perché per me sono dei giovani importanti che hanno ottima prospettiva. Qui nel settore giovanile in passato ha lavorato molto bene. Già l'anno scorso e quest'anno si stanno vedendo i frutti. Beh, è normale che ci sarà sicuramente il girone F con le marchigiane abruzzesi e le molisane. Poi penso che la Lega dovrà decidere se mettere nel nostro girone o le laziali o le romagnole. Dal punto di vista delle squadre, sai, già le marchigiane con Fano e San Benettese saranno sicuramente delle ottime squadre. Poi dipende dalla Lega cosa decide, se tornare a mettere le laziali come l'anno scorso o mettere squadre come le romagnole, come il Rimini e il Forlì che sono delle ottime squadre. Abbiamo un amichevole giovedì ad Alba Adriatica e poi domenica prossima in casa con la Torrese. Adesso il desiderio è di finire il ritiro nel migliore di modi, di farvi vedere crescere la squadra. Io sono contento di questa rosa perché è una rosa importante. Non è nessun desiderio, l'unico desiderio è quello di arrivare al 19 settembre, non dico al 100%, ma all'80-90% della condizione.